Gratuite e sostenibili, sono ripartite sabato 1 giugno le navette dell'estate pesarese, quelle che da diversi anni sono un veicolo pratico e comodo per raggiungere il litorale di Viale Trieste, sottomonte Baia Flaminia e che dallo scorso anno hanno aggiunto la scoperta del Parco San Bartolo, unendo Pesaro e Gabicce Mare in navetta attraverso la strada panoramica. Le telecamere di Rossini TV sono salite a bordo del viaggio inaugurale della linea Riviera del San Bartolo che si ripropone nell'estate 2024 dopo che lo scorso anno ha riscosso un ottimo successo di partecipazione. Formula quest'anno potenziata dai comuni di Pesaro e Gabicce assieme ad Adribus e ad Apatels che la riproporranno quotidianamente fino al 21 di settembre. Abbiamo prolungato l'orario di ultime corse, è possibile rientrare fino alla 23 il servizio, quindi dando proprio la possibilità di godere dei posti e dei luoghi in cui lo stesso servizio transita anche fino a tardasera. Fondamentalmente è una riproposizione ed è un modo per vivere il San Bartolo e il territorio in maniera diversa rispetto a quello che uno può fare con il mezzo proprio. E in più noi siamo convinti che possa essere veramente anche un'attrazione turistica importante perché oggi molti si spostano con mezzi pubblici per il turismo, arrivano a Pesaro con il treno perché proprio sono cambiate anche le nostre abitudini. Progetto importantissimo soprattutto per attrarre un turismo che guarda la mobilità sostenibile e un turismo che vuole visitare le nostre zone, non solo il mare ma anche la collina e tutte le sue bellezze. Sono già diversi anni che ci lavoriamo assieme al Comune, stiamo sviluppando un progetto integrato che si chiama Pesaro in treno con un accordo anche con Trenitalia. Quest'anno la navetta parte prima dell'anno scorso, già oggi il primo di giugno partiamo con la navetta. Questo è molto positivo perché ci permette anche di fare comunicazione, di fare una comunicazione importante verso i turisti che verranno a Pesaro e quindi ci piace molto e ci crediamo molto.